lorenzo marziali attore della compagnia proscenio teatro per il comune di fermo un commento alla serata e il progetto la storia che porterete per marche storie la serata è stata veramente un bellissimo è stato bellissimo vedere comunque quante compagnie quanti attori quanti professionisti e lo spettacolo collaborano marche storie una grandissima festa di questa regione in particolare a fermo torre di palme racconteremo una porzione della storia dei piceni l'antico popolo che si trasferì dall'alta sabina alla costa marchigiana e del loro prima diciamo la migrazione macroscopica appunto dall'alta sabina alle marche poi la migrazione microscopica dall'antica palma fino all'attuale torre di palme ci saranno ci sarà musica dal vivo ci saranno danzatrici ci saranno interventi affabulatori e ci sarà il teatro quindi la storia ancora microscopica di una famiglia di piceni che durante la piccola tragedia del trasferimento dal vecchio borgo all'attuale torre di palme a 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